il mio voto a questo film è 10 ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto mi sono piaciute molto le scene del film l'interpretazione della sceneggiatura è di genere sci-fi la durata è un'ora e 55 minuti il regista è David Michele Tregigliani, Favij, Picchiatore, Bulluni, Van Drago, Derock, Orto, Giulio, Alessio, Uga lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto ciao 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 ciao